La distanza con la capolista, torniamo a Ro, all'esposizione canina dove avevamo lasciato Alessandro Di Sarno col suo cane molto vaporoso. Alessandro? Sì, 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 è molto vaporoso e sono molto, molto, molto teso, perché come ben tu sai, in un concorso di bellezza, un ciuffo tagliato male è l'esclusione secca. Sì, sì, sì. Allora, io vorrei, caro Nicola, rendere omaggio anche ai padroni, di questi che noi chiamiamo i migliori amici dell'uomo, perché dietro un grande cane c'è un grande padrone. Iniziamo subito, come si chiama lei? Massimiliano. Massimiliano, lei è il proprietario di questo stupendo cane. Vediamolo. A che parte è, scusi, questa è la cosa. Guardate che splendido cane, e poi, caro Nicola, direi, direi che quel detto che i cani assumirono i loro padroni o i padroni assumirono i loro cani, con lei è un po' vero, siete pettinati qua. Eh, zecca, sì, sì, abbiamo lo stesso acconciatore. Gli stessi colori, no? Gli stessi colori, lo stesso ciuffo. Lei viaggia sempre con un pettinone in tasca, me lo faccia vedere. Assolutamente. Eccolo. E cosa fa con questo pettinone? Faccio un po' vedere. Eh, sistemo, alzo il pelo. Ma chi comanda, chi comanda, chi comanda tra lei e il cane? Eh, diciamo che io sono più il servitore del cane che... Ma Alessandro, scusami, eh, scusami Alessandro, ma perché gli tiene la bocca? Mi fa tenerezza, non si può lasciare? Ma, scusi, perché le tiene la bocca? No, è solo per tenerlo... Un po' fermo. Un po' fermo, poverino. Però, mi scusi, Nicola, mi permetti, se io le facessi così... Eh, bravo! Non lo so, non mi so se... Lo lasci, lo lascia a bocca aperta, a bocca aperta un po' come voi, è vero, Nicola. Allora, accanto a questo barboncino gigante abbiamo un altro cane molto curioso, lei come si chiama? Io mi chiamo Ivan, il cane si chiama Chinese Crested Dog. Sì. Ma lui è nudo il cane. Eh. Ecco, avvicinatevi. Guarda, Nicola, proprio la pelle. Sì. Guarda qua. Ecco. Guarda qua. È tutto nudo, ma non si vergogna il cane? No. Comunque era la coda quella cosa lì che vedevo sotto. No, nascono così. Vabbè. Era la coda. Ho capito, ma era la coda. Allora, continuiamo, continuiamo un attimo. Questi sono i cani più belli. Quattro, questo grande cagnolone, lei come si chiama? La Getù è belle. Belli. Ottavia, il cagnolone come si chiama? Sì. Tommy. Tommy, dimmi Nicola, scusa. No, vi stava chiedendo, Ubaldo, se questi cani fossero i più belli. I più belli, nel senso... Guarda che, Ubaldo, fai attenzione, perché il padrone del cane, col suo cane, ha un affetto maggiore rispetto a noi, con la nostra bambina, cioè proprio è una creatura del padrone. Ha un massimo rispetto. Lo sai, per esempio, ho visto un esemplare che mi è rimasto... Ti è rimasto impresso. Vabbè, insomma, quelli con poco pelo. Questo è molto bello, Alessandro. Complimento. Comunque. Prego. Vai. Grazie. Allora, qui siamo con Ottavia e Ottavia ha il suo cagnolino come si chiama? Tommy. Tommy. Allora, Tommy è veramente gigantesco. Lei come fa a fare le coccole a Tommy? Eh, faccio grandi coccole. Ma non lo prende in bravo? No, direi di no, è impossibile. Allora, Tommy costa molto, mangia molto. Qual è il budget di Tommy al mese di nourriture? Eh, un piccolo mutuo, Tommy. Me lo immagino. Un piccolo mutuo. Alessandro, ti do un incarico, dare una mano alla politica italiana, cioè trovare una fidanzata per il cane Dudu o per il cane di Renzi. Ma una fidanzata o un fidanzato? Cioè, com'è un partner? Non una botta e via. Ma Gioio... Una cosa seria, un cane da una cosa seria. Una cane da una cosa seria. Un cane fidanzato in casa. Ma Gioio, Dudu... Tutti quanti sanno che Dudu è gay. Ma è una vostra storia con il problema. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, a lei, va bene. Un fidanzato, va bene. Un fidanzato, una fidanzata. Noi non ci formalizziamo. Va bene, un partner, ok? Va bene così. Allora... Ecco, trovalo, però, chi c'è? Uh, che bella signora. Sì, sì. Allora, la signora è la presidentessa di questo prestigiosissimo salone. Più di 4.500 cani. 4.500 cani, organizzata dal gruppo cinofilo milanese. E l'anno avventura attendiamo la mondiale, proprio in questi padri. La mondiale. Allora... La posizione mondiale. Allora, io vorrei fare una domanda alla presidentessa, Nicola, se me lo permetti. Qua sono tutti cani di razza, con un pedigree. Bellissimo. Se il suo cagnolino si innamorasse di un bastardino, lei si opporrebbe alla lorgnone? No, assolutamente. Però poi i cagnolini che nascono li regalerei a tutti quelli che vogliono un cagnolino. Bene. E viva l'amore. E viva l'amore. Ci fermiamo tra qualche età che non troverò il cane per Dudu e il cane rottamatore per Renzi. Benissimo. Grazie. Un applauso a tutti quelli che amano i cani. Ok, benissimo. La partita è verso la fine del primo tempo. Buon applauso a tutti. Buon applauso a tutti. Buon applauso a tutti. Buon applauso a tutti.